Sì, è un risultato positivo, ti chiedo se c'è un pochino di amarezza per questo gol preso su calcio di rigore nel recupero. Sì, abbastanza, anche perché non lo so se c'era o non c'era, non abbiamo rivisto le immagini. Poi è stato anche fatto ripetere per una finezza, diciamo così. C'è amarezza perché comunque un 2-0 è un risultato, un 2-1 è un altro, considerato che c'è la partita di ritorno e non è una gara secca. Loro sono cresciute e noi non abbiamo prestato come avevamo fatto i primi 30 minuti. Ci siamo un po' adagiate e di conseguenza se non recuperi palla non puoi ripartire, quindi non siamo proprio riusciti a recuperare palla. Il secondo tempo abbiamo prestato di più, ma in ogni caso abbiamo avuto poche palle gol, quindi dovremmo lavorare su questo. Però abbiamo vinto, quindi 2-1 ce lo teniamo stretto. Hanno fatto la loro partita, poi abbiamo tolto, diciamo, Lipman e Ceci gli aree perché erano ammonite, quindi rischiavi di andare a giocartela in dieci. Si prendevano un altro giallo e comunque hanno fatto bene. Sappiamo che se giocano di meno non è perché demeritano, ma perché abbiamo tante persone brave. Dobbiamo decidere chi scende in campo e ne scendono dieci. Noi siamo il doppio, quindi bisogna decidere. Il 2-1 è proprio un risultato, tra virgolette, stretto. Giochiamo là, quindi non giochiamo in casa. È una squadra che gioca bene, quindi è una squadra che fa tanti gol e sicuramente verranno ad attaccarci. Vorranno vincere e passare il turno. Noi dovremmo essere brave a difenderci bene, a ripartire, a giocare e non a chiuderci e basta. Perché se ci chiediamo e basta, sicuro perdiamo.